Salve e bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale che apriamo parlando di un sequestro da parte della Guardia di Finanza perché è stata sequestrata la clinica Villa Azzurra. La procura ha rilevato debiti erariali per 7 milioni e mezzo di euro. Sentiamo di più. La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo la casa di cura Villa Azzurra con l'indagine che riguarda gli amministratori accusati di bancarotta fraudolenta. Le indagini sono coordinate dal procuratore Giordano e dirette dall'APM Davide Lucignani e sono eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria. Le indagini sono iniziate nell'aprile 2017 e hanno acquisito elementi per consentire alla procura e quindi al giudice l'istanza di fallimento della società individuando al contempo in capo agli amministratori di fatto e di diritto i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di causazione dolosa del fallimento oltre al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'attività investigativa dei finanzieri ha fatto emergere che la casa di cura Villa Azzurra, società che ha accumulato nel tempo residui debiti nei confronti del fisco dell'Inps per circa 7 milioni e mezzo di euro e nei confronti di terzi per quasi 4 milioni di euro una volta acquisita dall'attuale gruppo societario nel 2015, nel successivo luglio 2016 ha concesso in locazione l'intera azienda ad altro soggetto economico ovvero la Gesin SRL. Gli ulteriori approfondimenti del nucleo di polizia economico-finanziare e della finanza hanno consentito di rilevare che la società nel mese di ottobre ha stipulato insieme con l'altra un contratto preliminare di vendita dell'azienda già in locazione così rimanendo svuotata degli asset societari idonei all'ottenimento dei ricavi. Era anche gravata i debiti per oltre 10 milioni di euro e così disponendo solo di redditi derivanti dal cano di locazione d'azienda questi ultimi non sufficienti a generare flussi finanziari tali da far fronte al pagamento degli ingenti debiti accumulati nel tempo. Ci spostiamo adesso al Consiglio Comunale di Siracusa che ha bocciato la prima delle proposte per ridurre la tasi nella nostra città. Sentiamo. Riduzione della tasi in città il Consiglio Comunale ha bocciato questa mattina la proposta dell'opposizione. Secondo i consiglieri comunali Sorbello e Vinci sarebbe stata l'occasione per una riduzione sensibile delle imposte propedeutico al bilancio di previsione per il 2018 sul taglio delle spese ritenute inutili e non basandosi su tasse e tariffe a carico di famiglie ed imprese siracusane. Prima della bocciatura queste le posizioni di maggioranza e opposizione. È una tassa che dal 2016 incide soltanto su una serie di immobili. Noi abbiamo ritenuto per l'importanza che ha questa tassa di mantenere le stesse aliquote che comunque non sono alte e non incidono tantissimo sull'economia complessiva dell'azienda perché sono tasse che vanno a finanziare alcuni servizi. Il servizio di polizia municipale, della viabilità dell'inominazione pubblica, del verde pubblico, della manutenzione del patrimonio, della protezione civile e dei servizi socioassistenziali. C'è stato un primo emendamento da parte di una consigliata di opposizione che ha chiesto di dimezzare le aliquote che riguardavano i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati strumentali delle attività artigianali, professionali e commerciali. Personalmente non sono d'accordo perché significherebbe sostanzialmente dimezzare il gettito fiscale proveniente da questa tassa perché la rimanente quota che è quella che riguarda gli immobili di lusso incide pochissimo rispetto al complesso. Quindi si tratterebbe di perdere nel bilancio comunale parecchie centinaia di migliaia di euro a detrimento di servizi fondamentali che sono quelli che ho detto. È stato presentato più di un emendamento, uno dalla collega Vinci, un mio emendamento che sto per depositare in presidenza e gli stessi non possono essere assolutamente trattati perché l'assenza degli uffici e della giunta non permette che abbiano i pareri previsti per metterli in votazione, pertanto siamo bloccati. Dovrebbe venire fuori una riduzione della tasi per gli immobili o meglio verrebbe cancellata la tasi per gli immobili della prima abitazione e una riduzione proposta da noi per gli immobili classificati come immobili di lusso. L'importanza della raccolta differenziata con particolare riferimento all'ordinanza regionale che limita le discariche, di questo abbiamo parlato con l'assessore comunale all'ambiente Pietro Coppa che ci fa appunto il quadro della situazione. Vediamo. Assessore, differenziato una rivoluzione culturale anche tecnica ci sono però delle regole da osservare sia per quanto riguarda i cittadini il comune poi ha anche alcune procedure da seguire. Sì, allora intanto abbiamo adottato un'ordinanza, il dirigente settorialmente ha adottato un'ordinanza che entrerà in vigore dal 19 marzo e questo significa che in questa ordinanza sono indicate le modalità di conferimento gli orari di conferimento e non ci sarà più possibilità di contravvenire a quelli che sono gli obblighi. Sono anche previste delle sanzioni che diciamo da 25 euro in su per chi non effettuerà la differenziata e per chi non conferirà correttamente. Questo è il primo contenuto, quello più importante dell'ordinanza. L'altro aspetto che è importante, il messaggio che voglio dare a tutti è che non vi è più la possibilità di non fare la differenziata perché dall'1 giugno come comune, come tutti i comuni della regione siciliana siamo obbligati a raggiungere percentuali di raccolta differenziata pari al 35% ma soprattutto non potremo conferire più in discarica una percentuale superiore al 70% dei rifiuti urbani che produciamo ogni giorno. Questo significa che se non raggiungiamo la percentuale di raccolta differenziata superiore al 35% al 30% i rifiuti rimarranno per strada. Quindi la differenziata non è facoltà, non è una scelta, è un obbligo. Un altro aspetto importante è quello dei controlli. In questo momento ad Ortigia, perché abbiamo parecchi problemi ad Ortigia che però si stanno risolvendo, ci sono otto pattuglie tra Polizia Ambientale e agenti di Polizia Municipale che stanno controllando la mattina dalle 6 alle 9 la sera dalle 17 alle 20. Quindi c'è anche un controllo straordinario in questo momento che sarà previsto anche nelle altre zone. L'amministrazione ha organizzato il servizio, c'è un servizio nuovo affidato c'è la possibilità di fare la differenziata, ci sono le attrezzature quindi ora tocca ai cittadini. Si è svolta questa mattina l'assemblea della società partecipata Siracusa Risorse assemblea che si è svolta presso la sede di Corso Gelone. Durante l'incontro ci sono state le dimissioni rassegnate dal precedente amministratore unico il dottore Giovanni Vinci ed si è proceduto poi alla nomina del nuovo amministratore che si tratta del commercialista, il dottore Giuseppe Romano. Distese di amianto ricoperte da vegetazione, uno scenario preoccupante in Contrada Sorciaro. Sentiamo. Una sinistra distesa di amianto misto a detriti ricoperti dalla vegetazione da circa 8 anni giace nell'indifferenza generale nell'area dell'interconnessione. Correva l'anno 2010 quando l'associazione Priolo Parla presentò una denuncia sulla presenza di una discarica illegale di amianto e altro materiale inquinante in Contrada Sorciaro. Esattamente in una frazione dell'area dell'interconnessione dove sono interrate le condotte delle industrie del petrolchimico. Nel 2014 ancora una denuncia sulla stessa linea d'onda e per lo stesso identico motivo da parte di un attivista del PSI ma a distanza di 8 anni lo scenario non è cambiato, anzi è peggiorato. Si tratta di un reato grave ma ormai diffuso su scala industriale e con tanti interessi collegati. Amianto e detriti sono sparpagliati in quell'area in quantità davvero incalcolabile. I cumuli sono sotterrati a strati con altri materiali di scarto e ricoperti dalla vegetazione. I rifiuti hanno occupato buona parte dello spazio dove sono interrati i tubi in cui scorrono prodotti chimici e idrocarburi. Una discarica abusiva a cielo aperto che i vandali hanno violato portando via anche le coperture dei pozzetti di ispezione delle condotte lasciando senza protezione valvole meccanismi vari. Troppe le fibre di amianto in libertà che il vento sposta le sinistre molecole nell'aria responsabili di una grave patologia tumorale chiamata mesotelioma. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a parlare di cronaca perché la DIA ha sequestrato beni per 8 milioni di euro ad un imprenditore nel settore dei videopoker ritenuto vicino alla cosca Trigilia. Sentiamo. La DIA di Catania ha eseguito un decreto di confisca di beni per oltre 9 milioni di euro nei confronti di un imprenditore del settore del noleggio di apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo considerato vicino al clan mafioso siracusano dei Trigilia. Beni per 9 milioni quindi sono stati confiscati a Gaetano, Liuzzo Scorpo, 53 anni, imprenditore originario di Tortorici in provincia di Messina, proprietario di alcune imprese che operano nel settore del noleggio dei videogiochi. Il provvedimento è stato messo alla Corte d'Appello di Catania che ha confermato un antecedente confisca disposta dal Tribunale Siracusa a seguito del sequestro emanato nel 2011 sempre su proposta del direttore della DIA. Le indagini e le verifiche sui beni patrimoniali sono state avviate a seguito dell'operazione denominata Nemesi e portata a termine dai poliziotti della squadra mobile Siracusa nel luglio del 2008 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Catania. In quella circostanza era stato disarticolato il clan mafioso Trigila Aparo attivo nella nostra provincia assicurando alla giustizia oltre 60 tra affiliati e componenti con l'ausilio dei collaboratori di giustizia la scoperta anche della relazione tra Liduzzo Scorpo ed esponenti del vertice del clan Trigilia legato al clan Paro Nardo attivo nel territorio siracusano e affiliato allo storico clan Santa Paola di Catania nella gestione del mercato del noleggio dei videopoker nelle province di Siracusa e di Ragusa. La Corte di Cassazione ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex sindaco di Priolo Antonello Rizza Il sindaco di Priolo Antonello Rizza dovrà tornare al regime degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale scaturito dell'operazione arrest pubblica La Corte di Cassazione infatti non solo ha rigettato la richiesta dei legali difensori di Rizza di annullare l'ordinanza dell'Egip del Tribunale Giuseppe Tripi ma ha al contempo accolto l'istanza del PM Margherita Brianese che chiedeva il ripristino dell'originaria e più restrittiva misura cautelare Con questo provvedimento l'ex primo cittadino priolese dal divieto di Mora nel comune di Priolo si vede destinato nuovamente alla detenzione in casa L'esito della Cassazione ha deluso l'attesa degli avvocati Mignoso e Tamburino che avevano puntato tutto sul fatto che a distanza di oltre due anni dai fatti oggetti della contestazione i giudici della Suprema Corte ritenessero dover annullare anche la misura personale per il venir meno delle esigenze cautelari Stesso provvedimento è stato adottato dalla Cassazione per l'imprenditore Francesco Artale Nella stessa udienza è stata discussa la posizione di due funzionali del comune di Priolo Anche in questo caso la Suprema Corte ha dato ragione alla procura retusea disponendo il ripristino della sospensione dell'attività lavorativa per la durata di un anno per il dirigente comunale Salvatore Cernigliaro e per nove mesi per la dirigente Flora Lajacona Con queste sostanziali novità ci si proietta la prossima udienza preliminare quella del 26 marzo dopo che l'ultima è slittata a causa di un difetto di notifica del decreto di citazione nei confronti di alcuni imputati E domani si svolgerà il secondo appuntamento del convegno itinerante Sicilia Geologia in Movimento Viaggio nella storia del territorio siciliano Sentiamo di più di cosa si tratta Presentata la seconda tappa di un convegno itinerante dal titolo Sicilia Geologia in Movimento che si terrà domani a noto Il consigliere dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia Marco Andolina spiega come il convegno rappresenta un viaggio nei tre luoghi siciliani testimoni di tre momenti drammatici per la storia della Sicilia Il terremoto della Val di Noto del 1693 e quello di Messina del 1908 Ecco per quanto riguarda gli edifici strategici qual è la situazione che voi geologi avete riscontrato nella nostra provincia per esempio? Allora sugli edifici strategici come ho detto Praticamente circa il 30% degli edifici risulta effettivamente a norma antisismica Per le scuole? Sia per le scuole ma anche in generale possiamo vedere per le caserme e per le caserme comandi di vigile del fuoco insomma sono gli edifici che effettivamente bisogna andare a verificare e valutare qual è l'indice di vulnerabilità sismica ovviamente io sto parlando su dati che noi abbiamo a livello regionale C'è una maggiore sensibilità oggi da parte della gente e anche delle istituzioni verso questa problematica della prevenzione? Allora sì, una maggiore attenzione noi soprattutto perché la vediamo perché ci stiamo affacciando anche sul mondo della scuola che è un altro fattore molto importante per cui abbiamo dato spazio anche in questo convegno anche alle scuole che parteciperanno proprio per sensibilizzare anche le scuole su questo tema e la cosa fondamentale è che bisogna parlarne per questo diciamo così siamo nel dibattito che noi faremo con tutte le istituzioni diciamo il mondo accademico e tutti gli ordini provinciali proprio perché noi siamo in un territorio viviamo in un territorio ad elevato rischio sismico e quindi è importante che la cultura del rischio sismico sia fondamentale per evitare che si possano ripetere e fenomeni che in passato non hanno dato origine a questi terremoti che hanno distrutto appunto i tre siti voglio diciamo così concludere dicendo che è noto è stato scelto perché noi sappiamo che nel 1693 il terremoto fondamentalmente ha distrutto i territori più colpiti fuori quelli di Catania ma noto perché è un esempio di virtuosismo della ricostruzione che ha dato origine quindi al Barocco che oggi è proprietà dell'UNESCO e che tutti quanti vengono qua per... chiudendo voglio dire che ovviamente quello che si distinse nel Barocco fu Gagliardi e il cui nome diede alla sala Gagliardi che domani ci ospiterà al convegno di Noto L'esperienza siciliana offre un modello concreto di ricostruzione nella Val di Noto dove il recupero del Barocco siciliano ha fatto sì che diventasse sito UNESCO Domenica si svolgerà la Domenica Ecologica e per questo in Ortigia dalle 9 alle 12 sarà vietato transitare con qualsiasi mezzo una disposizione valida anche per i residenti quindi che non potranno anche loro utilizzare i propri mezzi all'interno dell'isolotto si terranno inoltre due eventi il primo è una gara di pesca sportiva che si terrà alla Marina e poi il secondo è Run Days una gara podistica Questa notizia chiude il nostro telegiornale grazie per l'ascolto e vi auguro un buon presidimento con i nostri programmi e vi auguro un buon presidimento con i nostri programmi